E' ritornato il treno a Borgo Ferrovia, sono soltanto prove tecniche di ripartenza della stazione ma benvengano, rappresentano un raggio di sole che squarcia nuvoloni neri che da decenni si sono addensati su questo quartiere di Avellino. Lo Stato che fa taglia l'ultimo presidio, l'ultimo baluardo rappresentante delle istituzioni, la polizia ferroviaria, proprio mentre Ferrovie dello Stato investe qualcosa come 30 milioni di euro per rifare 50 chilometri di binario, non sono certo bruscolini. Ora, la parola sviluppo che riempie i tavoli, le commissioni, illumina le menti dei pensatori, è legata indissolubilmente al tema delle infrastrutture. Fu così all'epoca anche per l'isochimica, con le carrozze piene d'amianto che arrivavano sin nella fabbrica dei veleni, ma quello alla luce dei fatti è stato un sottosviluppo funzionale all'arricchimento di qualcuno e alla devastazione dell'intero quartiere. Oggi la ripartenza del treno è di buon auspicio, ma il treno rischia di passare in un deserto dove non c'è la polvere se non quella dell'amianto. E allora ben venga la ripartenza del treno, ma si riparta anche nella riqualificazione del quartiere che ha visto man mano chiudere negozi, attività commerciali, chiudere tra poco, chissà, anche le scuole. E il quartiere così rischia davvero di non rifiorire mai più. Una proposta operativa, ripartiamo dai campi di gioco. Ce ne sono due a Borgoferrovia, hanno ospitato centinaia di migliaia di partite di calcio, le hanno calcati decine e decine di giovani e meno giovani. Quei campi erano aperti quando la polvere d'amianto inghiottiva il quartiere e ancora non ci spieghiamo il perché. Oggi che tutto sembra finito, passato, quei campi restano chiusi. Anche da quelli si può ripartire e naturalmente dalla ferrovia. Francesco De Santis nel viaggio elettorale disse venga la ferrovia in piccolo numero d'anni si farà il lavoro per secoli, il lavoro di secoli. Ben venga il treno, aspettiamo che dal treno rifiorisca l'intero quartiere, ma ora rispolveriamo anche i tappeti verdi, simbolo di vita. E questo è il punto.